ecco qui Anna Stesha sta partendo, ecco in france ci riusciremo? ok grazie, grazie, piano piano ragazzi Anna, ciao Anna la pizza, pizza hi Anna, hi baby, pizza, ok 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 è per te, hai shown, hai per te, hai una foto, ok? Lillia, Lillia, le fa su questo? Anna, Anna, Anna Grazie